riceve, palleggio ad una mano dopo la ricezione di Scalferla, ancora Busi, la mette giù Pellone poi è schizzato via Milan, Tiberti spinge per Cisola, pallonetto, Wagner arriva, difende Palleggio, free ball, Milan, Tiberti al centro, non riesce a chiudere Valsecchi Palla dietro ancora, Wagner, questa volta c'è il muro con la doppia sul brasiliano, grande muro Tiberti, Valsecchi, muro su di lui, palla per Milan, altro muro Tiberti la mette di là, crea qualche problema Arriva poi Wagner, tocca il muro bresciano, palla rigiocabile, buona, Tiberti dietro per Busi E il pallonetto va giù Wagner riceve molto bene Scalferla, Tiberti, poi Fabio Busi, che palla questa Andrini riceve dopo il tocco della rete Snippe, Cisola difende, Tiberti, palla per Cisola, la difesa, palla di qua, Signorelli, Tiberti dietro per Busi Ancora il pallone, va via Fabio, sexy La battuta di Milan, attenzione, non la forza, ma la mette verso posto uno Recupera Brescia, palla per Busi, gran palla ancora per Fabio Busi Senza dubbio il miglior dei suoi La battuta è buona, viene ben ricevuta da Scalferla, palla per il Ciso Che cosa fa Cisola? Che cosa fa Cisola? La mette giù come lui sa fare con un diagonale assolutamente perentorio 23 a 16 Forza! La gestione di Grassano, acquarone, palla per Grassano, muro su di lui di Simone Tiberti che ci mette le mani 25 a 17 2 per Valsecchi, 2 per Cisola, 1 per Tiberti, il muro finale per quanto riguarda invece Santa Croce 4 per Baggi che sta giocando un'ottima partita al centro Seguiamo l'azione, Tiberti, pipe per Sebastiano Milan Bella partita Milan, Tiberti spinge per il Ciso, la difesa ancora e poi chiude Signorelli perché quei palloni vanno chiuse così Il pallone rimane lì per un attimo Salvataggio di Brescia Palla alta per Wagner E c'è il muro! E c'è il muro! Che lo permette Signorelli La battuta su Andreini C'è forse un ace No, recupera ancora una volta Santa Croce Arriva poi Cisola Il diagonale stretto È vincente Battuta al salto Scanferla La riceve abbastanza bene Palla per Milan La copertura dello stesso Scanferla Tiberti dietro Milan Che passa con una lunga linea Battuta al salto La tira, la tira Ricevuta altissima Poi libero prova a servire Wagner Non ce la fa Il palleggio di qua Comunque insidioso Tiberti al centro Il muro Ancora Tiberti Palla per Cisola E mette giù Il pallone del 24 a 19 La battuta è out Da parte di Ferraro E si chiude il terzo set In favore di Brescia Con il punteggio di 25 a 22 7 a 1 Per la centrale del Latte Sferkmeck North Brescia Sulla Chemas Lami per Santa Croce Qui a San Filippo Cisola La ricezione Palla per Bisi Pallonetto difeso Però da Santa Croce Tiberti bravo Difende la sua volta Su Wagner E poi ancora Bisi Altra difesa Spettacolare di Acquarone Wagner Va su Difende Ancora Tiberti Scanferla Bisi Muroau Grande scambio Cisola Acquarone Palla per Colli Tocca il muro Tiberti Spinge Per Milan Eccolo qui Il punto del break 13 12 per Brescia Quinto sette Finale Tutto da seguire Cisola Sui tre metri Palla per Bisi Muroau Fabio Bisi 14 12 Tutti in piedi Per il match point di Brescia Grande attenzione Colli Alla battuta Al salto Batte direttamente in rete E Brescia vince E Brescia vince Una partita Clamorosa Per Intensità Agonistica Uno spettacolo Impressionante Qui al San Filippo Un 3 a 2 Davvero Bellissimo Anche per merito di Santa Croce